le visite guidate a Palazzo San Giacomo, organizzate dal Comune di Napoli per far conoscere la storia dell'edificio e della città. Condotte da Antonio Caliendo, Rosa Perrotta, Raffaele Gagliardi e Bernardo Leonardi, esperti della direzione cultura del Comune, le visite registrano un buon numero di cittadini e turisti che si appassionano alle vicende e ai particolari storici raccontati durante il percorso. Palazzo San Giacomo fu eretto fra il 1819 e il 1825 per volere di Ferdinando I di Borbone, da poco tornato alla guida del Regno delle Due Sicilie dopo il governo di Giuseppe Bonaparte e di Joachino Miurà. All'ultima visita del mese di agosto hanno preso parte 150 persone che il sindaco De Magistris ha ricevuto in sala giunta per un saluto di benvenuto e per un confronto a più voci su alcuni temi cittadini. Per partecipare a una visita guidata è possibile prenotarsi sul sito istituzionale www.comune.napoli.it